È una mia grande amica, è una grande combattente della causa della Bulgaria nel Parlamento europeo e sarà una grande vicepresidente di questa Repubblica. Noi ci impegniamo insieme a Liliana a dare una risposta ai problemi di questa nazione. Lavoro, lavoro, lavoro. Prospettive per i giovani, maggiore coesione sociale, più diritti a tutti. Una grande Bulgaria, una grande Europa. Questo è il nostro impegno.